Un secondi di break per ringraziare intanto il nostro litico Francesco e comunicarci con lui, questo splendido locale, la nostra bellissima PR Anna Fiorillo, che fa sempre un ottimo lavoro, il nostro grande Raffaele Evangelista, signori, un applauso al nostro litico fotografo che veramente penso sia un'istituzione, il benezzo dell'Italia. Poi c'è anche Rosy, non si chiamiamo di Rosy che ci ha mandato la sua presenza, e tutto il nostro tavolo VIP, Lisa, Silvia, il dottor Palomba e il nostro tavolo VIP. Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? La confusione vuole indietro di me Buon amore si sa, già vivi la mia stessa Buon amore anche me Se l'amore non c'è Non sono solo il mio sonno La confusione vuole indietro di me Un tetto bianco con gli occhi blu Un vecchio naso sull'acchio blu Un'arriamo nelle cartelle Due docce rossi, due docce rossi Quello a me E' un'arriamo in una ricetta E' un'arriamo in un frigo Da leggere scritto alle stelle E poi tu dici non solo cose belle Mamma, 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 Maria Amma Maria Amma Maria La valigia sul letto è quella di un nuovo viaggio E tu senza dir niente hai trovato il coraggio Con l'orgoglio ferita, chi mi puoi seguire bene Ma quando mi arrabbi sei ancora più bello E così su due piedi io sarei riequivato La vittima sai, mi lancio sbagliato Se un uomo tradisci, tradisci a metà per cinque minuti Se mi lasci non va, se mi lasci non vale Se mi lasci non va, se mi lasci non vale Se non toccare, è questo che adesso lo scopro Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale E con quegli ad oggi c'è tutto il nostro messaggio Non ci potrà Ti imposto ogni cosa e parliamo un po' E con quegli ad oggi, mi lasci non va, se mi lasci non vale Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale E con quella valigia, tutto il nostro messaggio Non ci potrà E con quegli ad oggi, mi lasci non vale E con quegli ad oggi, mi lasci non vale